Basta tirare giù così, guarda, tagliare un pezzo. Bene, così stiamo combinando? Le rose con le mascherine. Facciamo le rose con le mascherine? Oh mamma mia. E se poi ci servono? Dici che non lo usiamo più? No, ma queste ci non possono subito e poi ce ne sono. E quelle che danno a scuola, insomma, che non va bene a nessuno. A me non mi riprendi, no? Allora, cosa facciamo noi? Ecco, le rose con le mascherine. Senta, dobbiamo togliere e... Fierette. Fierette. Ok, io prendo tutti e tre subito, le mascherine insieme. Giorgia sta toliendo i fierette. Ok, tagliamo i fierette e raccoliamole, guardate, tutte fierettine. Poi, dobbiamo... Dobbiamo prendere e ritagliare, diciamo, tutti gli angoli. Per ottenere, ok, per ottenere così. Ma non ci sono i fierette. No, no, qui no. Ci sono tre strate, ma dobbiamo dopo dividerle queste strate? No. Eh sì, perché sennò dopo come fai? Dobbiamo dividerle. Devi tagliarla. Eh, ho capito. Guarda, no, girala. Guarda. Mamma, ho capito, ho capito, non so. Così. Fa niente se sarà più piccola, ha capito? Fa niente che sarà più piccola. Sì, no, ho capito. Hai capito? Sì. Hai capito? Ok. E così. E così? Devono uscire così. Hai finito a fare due ruta? Allora, le mettiamo uno, due, tre. Facciamo dritti, più o meno. E le faremo un vintaglio. Un vintaglio, una specie di vintaglio. Vintaglio? Come si dice? Vintaglio? Vintaglio. Vintaglio? Vintaglio. Io mi faccio tisana betula ananas. Betula. Sì, continui a mangiare. No, bere. Betula. Hai visto? Non mi fai lavorare. Certo, io sono il CEO, direttore amministrativo. Il biglioni, eh? No, biglioni. Ah, sì, sai. Sì, sai, la visione, l'uomina. Io devo incassare, io ottengo i conti. Certo, tu geni e conti, certo. Adesso, tu metti minori, eh? Sì, io sei forte, allora. Se non cadi. Allora. Ok? Eh, non si staccano. Eh, spuntarci sopra. Non ti piacciono questi biscotti qua, quindi si sono, mi sono qua. Ho detto, non mi piacciono. Sì, questi mi piacciono. No, non è vero, avrebbero già sparato. Perché l'ho mangiato? Non mi piace, veramente. Il cioccolato d'intra è che ha fatto. Eh, lascia, lascia che mangio io. No, tranquilla. Qui non si butta niente. È così. È così. È così. È così. È così. Qui avremo, allora, nove strate alla fine. Nove strate. Nove strate. Nove strate. Ogni mascherina ha tre strate. Ogni mascherina ha tre strate. Aveva tre strate. Aveva tre strate. Ma speriamo che non tornino più obbligo di mascherine. Anche se ancora c'è. È ne spostato cinque volte. E poi da questo lato, lì, apriamo verso di qua, giusto? Vabbè, insomma. Qui sembra facile. Sembra. Ok. Mi sta uscendo una bombolina. Un fiocco. Un fiocchino? Un fiore. Dovrebbe essere un fiore? Sì, è quello che abbiamo noi fuori. Hortensia? Sì. Perché ormai non ci sono più. Ma c'è qualcosa che non mi fa tagliare. C'è qualcosa che non ti fa tagliare? No, vabbè. La pazienza ci vuole. La pazienza ci vuole. Perché io ho. Ok. E così. Più o meno, qui sì. Laura, grazie. Ciao, Giorgia. Ti saluta, Giorgia. Ah. Giorgia, hai finito di... Si blocca. È un disastro. No, perché con le forbici ormai sono andate. Ma vabbè non senti capace di tagliare. Certo. Vieni qua a tagliare tu piuttosto. Sì, fai. Di stare sul divano. No, Milano. Bisogna di tagliare? Di tagliare questo, questo, questo. Guarda. Fai un minuto di me di te. Questo di tagliare anche. Guarda. No, là, no, là, no, là. Eh, guarda. Dai qua. Ma ce lo fate? La riga qua, lo tagliare. Sì. Guarda, ti faccio vedere che non tagliano. Guarda. Guarda. Taglio più di te, tagliare questo. Guarda. Ma perché non si capace? Ma non è molto piccola. Devi tagliare, è troppo forte di grossa guerra. Giorgia qua non ha tagliato bene, giuro Yuka. Non mi si apre. Perché io ho tagliato questa? Non si capace, non so. No, perché, allora. Questa le facciamo una bella composizione con le nostre ostriche. Ah, tema mare! Con le nostre ostriche che abbiamo portato sul ristorante. Le abbiamo pulite con il biocarbonato. Niente, praticamente, abbiamo ritagliato. Abbiamo ritagliato tutti i latte. Abbiamo tolto ferretto. 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 Abbiamo messo tre mascherini, una sopra l'altra. Una sopra l'altra. L'abbiamo creato un ventaglio. Vintaglio. 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 Con la Y. Com'è? Con la Y. Che significa? Ventaglio. No, Lio. Ah, ok. Ventaglio. Io, no, Lio. Vintaglio. 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 Io. Tu dici io. Giusto o ventaglio. Vier. Vier. In russo è vier. Bene. Dime in russo. Vier. 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 È giusto? Sì, l'italiano è un po'. E adesso apriamo tutte le strate. Ok, apriamo, apriamo tutte le strate. Che sono il nome. Ah, volendo, si può fare anche così. Guarda, senza aprirli. Guarda come esce. No. Esce un po' più... Eh beh, è carino. Non ti piace? No. Non ti piace il mio fiore? No. Basta. La mia mano si la vende. Questo con tutte le strate aperte. Guardate, c'è un po' di bianco, un po' di azzurro. Ma ci ho preso, ci ho preso. Bene, l'ultima volta facciamo vedere come abbiamo fatto. Mascherini. Per me non c'è l'ultima volta che ne facciamo una. Dopo che abbiamo fatto la marmellata di kiwi. No. La marmellata di kiwi. Abbiamo deciso di fare queste roselline con le mascherine avanzate. Mascherine. Guardate quante ne abbiamo già fatte. Fatte io. Le patate che pucciose. Le patate io tra. Che belle. Vabbè. Non sono male, dai. Eccoci. Non lo so se è una rosa o una pionia o un'asta. Comunque. Non sento niente, ragazzi. Mascherine che rimaste. Ah. Ma buono, pubblicità. Cosa devi sentire? Ma qui sta. Ma non è finita. Eccoci qua, abbiamo segnito. Qui c'è un seretto che è rimasto. Lo possiamo usare per mettere dentro. Per i miei vengi della vostra mamma. Ma? Eccoci qua. Brava. Sì. Qua si vede tutto questo. Ma invece qua non si vede tutto questo. Tulla montagnetta. Eccoci qua. Eccoci qua. Sì, presto. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Ecco. Foto della... Eccoci qua. Abbiamo segnita. Qui c'è un seretto che è rimasto. Lo possiamo usare per mettere dentro. Per i miei vengi della vostra mamma. Eccoci qua. Eccoci qua. Grazie a tutti.